Covid. Nella settimana dal 6 al 12 giugno si è registrato per la prima volta, dopo due mesi, un incremento delle nuove infezioni. E quanto fanno sapere dalla regione? L'incidenza di nuovi positivi è di 17.316, più 21,9%. In una nota si legge che il tasso di nuovi casi più elevato rispetto alla media regionale si è registrato nelle province di Catania, 424 su 100.000 e Siracusa 415 su 100.000. Le fasce d'età maggiormente a rischio risultano quelle tra i 60 e 69 anni, tra i 45 e i 59 anni e tra i 70 e i 79 anni. I dati relativi alla campagna vaccinale fanno riferimento alla settimana dall'8 al 14 giugno. Complessivamente vaccinati con terza dose sono 2.734.514, il 73,2%. Sono 999.582 i cittadini che possono effettuare la somministrazione booster, ma non l'hanno ancora fatta. Dal 1 marzo è iniziata la somministrazione della quarta dose nei soggetti over 12 con marcata compromissione della risposta immunitaria che hanno già completato il ciclo vaccinale primario con 3 dosi da almeno 120 giorni. Dal 12 aprile la somministrazione della quarta dose è stata estesa agli over 80. Nel Nisseno nelle ultime 24 ore riscontro di 124 pazienti positivi, tutti in isolamento domiciliare. Il numero più alto di casi a Gela 38, a Caltanissetta 36 e a San Cataldo 11. Dimessi dalla degenza ordinaria un paziente di Caltanissetta, uno di San Cataldo, uno di Gela e uno di Riesi. Guariti 41 pazienti di Gela, 34 di San Cataldo, 27 di Caltanissetta.